Un neonato è morto stamani all'ospedale di Siena subito dopo il parto, a renderlo noto l'azienda ospedaliera universitaria spiegando che il piccolo è deceduto nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo. La mamma, una giovane donna con gravidanza a termine, era arrivata in ospedale nella notte, venendo immediatamente assistita dai sanitari di ostetricia e ginecologia. Nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo, il neonato purtroppo non è sopravvissuto, come previsto dall'attuale normativa in condivisione con la direzione aziendale, i professionisti sanitari si sono prontamente attivati per identificare le cause del decesso. Vicinanza ai genitori è stata espressa dal direttore generale Valtere Giovannini, insieme alla costernazione dei professionisti che hanno fatto tutto il possibile per prestare le cure necessarie e intervenire tempestivamente.